Accademica per fare risultato tondo a Pistoia e portarsi nuovamente in vetta alla classifica. Troppe le frecce in più nell'arco dei bianconeri, come i tiri micidiali di Cucureddu, che al 14esimo già porta in vantaggio la sua squadra. Andata in vantaggio, la Juve sembra perdere ogni stimolo e il primo tempo non offre più altro.